E' scattato il 30 luglio il fermo pesca nell'Adriatico da Trieste ad Ancona. Per molti infatti è iniziato il periodo delle ferie forzate e potranno tornare in mare solo il prossimo 5 settembre. Si tratta di un provvedimento adottato con decreto ministeriale che interessa ormai da anni la flotta italiana. L'obiettivo è quello di consentire il ripopolamento delle specie ittiche. Non tutti però sono coinvolti dal blocco dell'attività. A spiegarcelo è Alessandro Cecchini, 51 anni, pescatore da 34, una passione tramandata da quattro generazioni che lo porta a lavorare anche su Elvira, la barca lunga 8,50 metri per una lunghezza di 2,5. Si trova quindi il pesce fresco in questo periodo? Si, si, il pesce fresco c'è perché la piccola pesca c'è, sta lavorando, sono reti ferme, fisse nel fondo, stanno lì tutta la notte e il pesce camminando si ingavina nelle reti. Oppure ci sono le vongolare che pescano, ci sono le volanti che pescano, poi ci sono altre attrezzature come le nazze, come i gugulli, sono tutte attrezzature da pesca ferme. E che pesce c'è in questo momento? Noi vicino alla costa peschiamo sogliole, enocche, mazzole, manzancolle, i grilli. Ma ci sono anche i suri, ha proseguito Alessandro. Cozze, vongole, sgombri, alici, prodotto ittico che è possibile acquistare pure sul lungomare a chilometro zero. Io vendo torrette, in spiagge, dopo c'è più in giù 200 metri, c'è un altro, 200 metri, c'è un altro. Sono tutti i casottini vicino alla strada che vendono il pesce. Un lavoro molto duro quello del pescatore, c'è qualcosa o qualche attività che può agevolarvi? Sono le barche grosse che vengono a pescare entro le 3 miglia, devo stare da 3 miglia fuori, io le metterei da 6 miglia fuori perché hanno i gran motori, tirano grandi reti e i motori ce li hanno per andare a pescare fuori. Le piccole e piccole imbarcazioni pescare da 6 miglia in terra. Questo perché il pesce ha più modo di riprodursi? Sì, sì, c'è più mare, non c'è più bisogno del fenomeno biologico. Altro problema, ci spiega, è che le vongolari escono di notte e non più di giorno, orari in cui, a causa del buio, provocano danni agli altri pescatori. Cioè abbiamo tutte le attrazzature in mare, segnalate con segnali, ma purtroppo di notte non li vedono. E noi siamo stanchi di spendere i soldi nella attrazzatura. E noi all'inverno, il lavoro nostro è ricucire tutte le reti, sono tutte cose che noi facciamo con la linguetta, ripariamo la attrazzatura, ripariamo. E anche in questi giorni uscirà in mare? Il tempo è buono e si uscirà. Ieri non sono uscito perché l'aveva messo brutto, poi c'è chi è uscito che ancora vende il pesce perché ha pescato bene.